Buona serata e ben ritrovati in diretta con l'informazione dedicata al Veneto. In apertura ci sono i numeri di giornata che hanno fatto segnare un aumento dei ricoveri nelle aree non critiche degli ospedali del Veneto a 2.280 pazienti, mentre quelli in terapia intensiva sono 290. Il report segnala anche 2.540 nuovi positivi nelle ultime 24 ore, un dato che porta il totale della regione a 73.727. I morti sono 37 ed è proprio la voce legata all'area non critica, ad estare le maggiori preoccupazioni. È stato abbondantemente superato in questi giorni il numero massimo dei ricoverati, ha detto Zaia che avevamo a marzo-aprile. Tra i positivi di giornata è da segnalare tra l'altro il rettore dell'Università di Padova, Rosario Rizzuto, che si è sottoposto a tampone ed è risultato positivo. Zaia ha annunciato i dati nella consueta conferenza stampa di giornata durante la quale ha anche spiegato che novità ci saranno in una nuova ordinanza, tra l'altro poi affrontando pure il tema della riapertura degli impianti sciistici per l'inverno. Ascoltiamolo. Che domani presenterò la nuova ordinanza. Non cambia nulla che sia scaduta ieri sera, perché l'ordinanza nostra ha un'efficacia soprattutto ai fini di settimana, questo lo sapete. Per quanto riguarda la scuola, il CTS non ha mai dato il suo assenso, vi ricordate che l'ordinanza c'era scritto lezioni con strumenti a fiato, attività motoria, previa autorizzazione del CTS, CTS non l'ha autorizzazione, ancora non si è espresso, per cui è inefficace questo aspetto. Domani presenteremo ordinanza in maniera più, diciamo, completa, alla luce del fatto che domani scade anche l'ordinanza rispetto alla fase di test di tamponi con i medici di base. Quindi domani cercheremo di mettere in fila un po' tutti i provvedimenti in maniera tale che riusciamo a risolvere anche il tema delle ordinanze, sicuramente ripresentandole, cercando di interpretare meglio, visto anche alcune segnalazioni, alcuni aspetti che la prevenzione ha valutato, eccetera, magari di fare degli aggiustamenti che siano rispettosi di chi lavora, ma che siano anche rispettosi della salute pubblica. Vorremmo che ci fosse un coordinamento europeo sul tema dello sport invernale, perché chiudere Araba e pensare, chiudere Cortina, chiudere altre località scistiche, pensare che a Kitzbühel, piuttosto che a Batklein-Kirchenheim o a San Moritz o da altre parti si sci, capite che la situazione è difficilmente giustificabile, visto che siamo in uno stesso bacino epidemiologico. Questo è acclarato che siamo in uno stesso bacino. Avete visto che le curve sono le stesse, gli andamenti sono gli stessi, c'è solo un ritardo, un anticipo rispetto tra un paese e l'altro, ma quella è la storia, no? Vi ricordate che noi abbiamo sempre utilizzato la Francia come benchmark all'inizio di questa curva, di questa infezione, perché la Francia ha anticipato di un paio di settimane l'Italia. Oggi è tornato a parlare anche il dottor Crisanti, ribadisco che sulla base delle conoscenze che abbiamo oggi non mi farei il vaccino. Se dovessero rendere pubblici i dati, la comunità scientifica ne validasse la bontà, me lo farei, non ho alcun dubbio su questo. Andiamo ad ascoltare un passaggio dell'intervento a Sky TG24. Io non ho cambiato la mia posizione, a meno che non vengano resi pubblici i dati. Non dubito che tutto quanto verrà fatto con la buona fede e con ricore. Comunque è stato di fatto che il difetto è nella procedura affrettata. Si ricorda Gili al rendersi che è stato approvato. È un farmaco che ha degli importanti effetti collaterali. Poi adesso si scopre che non va bene e che adesso tutta la procedura di approvazione è in revisione. Cioè, di queste cose bisogna rendersene conto. Cioè, ci sono delle procedure che sono accelerate e che hanno intrinsicamente dei rischi. Non lo dicono tutti. È solo questo che è un paese provinciale e che si pensa che se uno emette una frase che può far chiedere soltanto trasparenza, si scadena un putiferio. Ma il putiferio si dovrebbe scaderare, mi scusi, sul fatto che ci abbiamo 15.000 morti. E allora continuo al botte risposta a distanza tra Zaya, che ha dichiarato tra l'altro proprio nei giorni scorsi che lui il vaccino se lo farà, e Crisanti, che ha voluto precisare confermando comunque la sua linea. Ario Gervasutti, caporedatore centrale del Gazzettino, ci sarà anche questo domani nel menu del vostro quotidiano, ma non solo. Sì, buonasera. Ci sarà questo, anche se dal punto di vista del governatore Luca Zaya non si è voluto dare molto spazio alla polemica, lasciando sostanzialmente ciascuno sulle proprie posizioni. Ci sarà spazio per questo, ci sarà spazio per le polemiche riguardanti appunto il futuro ormai prossimo, imminente della stagione sciistica, invernali. Avete sentito prima anche voi il governatore Zaya e da questo punto di vista c'è ormai scontato il no del governo, il governo mi pare intenzionato a mantenere la linea dura e a non considerare le richieste delle stazioni sciistiche e quindi degli imprenditori del turismo invernale. Quindi è molto probabile che ci sia solo una piccola via di fuga proprio nei giorni di vigilia e Natale con la possibilità di spostarsi. Questo al momento pare il massimo delle concessioni che il governo vuole dare alla linea dura. Abbiamo molte altre notizie che riguardano ovviamente il Covid. In particolare c'è un approfondimento curioso che arriva dalla Francia dove ci sono dei cani che vengono istruiti perché sarebbero in grado di fiutare il Covid sulle persone positive. Quindi se uno è positivo e non lo sa, il fiuto del cane può indicargli la positività, può metterlo in allarme. Abbiamo poi molte altre notizie. In particolare io vi segnalerei un'intervista che abbiamo realizzato a Matteo Salvini, il segretario federale della Lega, che spiega le ragioni per cui in Veneto ha deciso di cambiare il segretario nazionale in questo caso, come la Lega chiama i segretari delle regioni. Il segretario del partito in Veneto, cosa che aveva fatto gridare al colpo di mano da parte del centro Lombardo della Lega e Salvini spiega quali sono le motivazioni che hanno portato a questa decisione. Queste e altre cose ovviamente di cui abbiamo parlato con Salvini. Ci sono queste notizie sul gazzettino domani in edicola oppure già da stasera dopo la mezzanotte per chi ha l'abbonamento digitale. Potete trovare questa e altre notizie. Grazie, grazie. Buon lavoro a Dario Gervasuti dalla redazione del Gazzettino. Noi continuiamo a parlare di sanità legata al Covid, ma non solo perché dall'ospedale di Negrar a Verona arriva un'interessante novità. Un solo tampone per la ricerca di tre virus diversi. Un solo referto entro 24 ore per sapere se la tosse o la febbre è dovuta al Covid oppure all'influenza. Vediamo. Per tamponi multiplex si indica una tecnologia che viene applicata su un prelievo tampone nasofaringio, una tecnologia di amplificazione dell'acido nucleico che viene prelevato durante questa operazione eseguita mediante il tampone. Multiplex perché? Perché vado a ricercare la presenza contemporanea di più target. Ossia andiamo a ricercare il virus SARS-CoV-2, l'influenza, il virus influenzale di tipo A e B e il virus respiratorio sinciziale. Allora la scelta di eseguire per tutti i tamponi che noi riceviamo in questo laboratorio una metodica, un approccio di multiplex PCR real time è quella di poter detectare contemporaneamente questi tre virus in una situazione attuale in cui circolano contemporaneamente anche assieme al SARS-CoV-2 anche l'influenza e il virus respiratorio sinciziale, i quali danno i medesimi sintomi clinici. Quindi abbiamo scelto di fare una diagnostica differenziale da un lato per aiutare immediatamente anche il clinico qualora si trovi di fronte ad un paziente con febbre alta, dolori muscolari, classici sintomi di un'influenza ma che non siamo in grado di derimere in questa situazione in cui circola tantissimo anche il coronavirus se questi sintomi siano imputabili all'uno o all'altro virus. D'altro canto aiutiamo anche il paziente stesso perché se viene sottoposto ad un'indagine per solo coronavirus e risulta negativo può essere che il medico lo rimandi a fare un'ulteriore indagine diagnostica in questo caso per la ricerca del virus influenzale. Per quanto riguarda invece i protocolli che devono seguire le aziende di trasporto proprio per evitare il propagarsi del virus ci sarebbe il distanziamento e l'occupazione al 50% dei mezzi pubblici. Siamo andati a vedere con Rosario Padovano a Venezia in particolare sui traghetti della CTV. Come ci si comporta? Situazione imbarazzante, insostenibile e al limite della legge delle disposizioni attuali quella che si vede sui vaporetti di Venezia dove il distanziamento è un ricordo del primo lockdown. Brugnaro dove sei? Infatti sui mezzi nautici il limite di 50% di capienza è regolarmente superato, almeno in una situazione che ci ha visto i testimoni a Venezia. Nessuno è sembrato scandalizzarsi, forse il virus non sale sui vaporetti, forse va bene così, sono sufficienti le mascherine. A Napoli si sarebbe scatenato il finimondo, a Venezia tutto va bene. Con il natante al limite della capienza è parso strano che non vi fosse l'indibizione del 50% dei posti a sedere. La Madonna della Salute di Venezia ha visto un servizio d'ordine impeccabile ma anche qui la domenica ha registrato un'altra pecca. Nella Basilica infatti durante la messa fedeli visitatori si sono trovati ammassati, a meno di un metro di distanza fosse stato presente qualche carabiniere avrebbe potuto anche elevare le contravvenzioni. Con la protezione della Madonna non è servito, la prossima volta meglio adottare il buonsenso e qualche accorgimento in più perché altrimenti le invocazioni alla Vergine della Salute non servono a nulla. Dalla mare alla montagna abbiamo parlato prima di una stagione invernale ancora in forse, nel frattempo a Cortina ci si attrezza con la moda. La stagione invernale è molto lunga, devo dire che il periodo natalizio sicuramente incide particolarmente sul complessivo del business, degli operatori e ovviamente quello della località. Quindi in questo momento ovviamente la situazione è difficilmente decifrabile, però devo dire che sia gli operatori economici sia ovviamente come amministrazione e denti ci stiamo muovendo per portare una stagione invernale che ripeto è lunga, che mi auguro si possa concludere con fine aprile e di cui si possa trarre qualcosa di buono. Devo dire che eravamo abituati ormai da alcuni anni ad iniziare la stagione invernale a fine novembre e proprio sul ponte di Sant'Ambrogio con la festa del Fashion Weekend inaugurare la stagione. Devo dire che quest'anno abbiamo dovuto sicuramente rivedere alcuni eventi, alcune manifestazioni anche per quanto riguarda gli impianti di risalita non è ancora molto chiaro quello che accadrà. È certo che Cortina si sta preparando al meglio, vuole sicuramente offrire una Cortina ospitale come siamo abituati a farlo. Oggi abbiamo la fotografia di oggi e la prossima settimana probabilmente potrà cambiare ed essere in divenire. È certo che noi siamo moderatamente fiduciosi che alla fine si possa portare a casa qualche frutto. Ricordo la stagione estiva dell'anno scorso che sembrava improbabile, se non quasi impossibile, riuscire ad ottenere delle presenze di qualche tipo. In realtà a luglio, agosto e in particolar modo anche a settembre abbiamo registrato una stagione con grandi e forti presenze. Quindi prepariamoci al meglio, ovviamente nella consapevolezza che bisogna essere sicuramente molto flessibili e cercare di tenere presente questa curva del contagio che però dai dati sembra in calo e quindi ci auguriamo veramente che possa nelle prossime settimane scendere ulteriormente e permetterci di affrontare il Natale. Decima edizione di Cortina Fashion Weekend, un'edizione speciale, particolare? Un'edizione assolutamente nuova che abbiamo voluto chiaramente anche in base alle disposizioni del governo riadattare dal punto di vista degli assembramenti, quindi non ci saranno eventi in presenza, non ci saranno manifestazioni che possano creare appunto assembramenti, ma sarà tutta un'edizione digitale e virtuale. Grande la collaborazione con alcune realtà del territorio come appunto quella di Fondazione Cortina 2021 che durante il Fashion Weekend allestirà lungo il Corso Italia dei LED Wall, quindi degli schermi luminosi per proiettare le immagini della Coppa del Mondo, così come alcuni contenuti fashion di Cortina Foraz e del Fashion Weekend delle edizioni precedenti. Con il comune di Cortina d'Ampezzo siamo nuovamente in coorganizzazione, con loro realizzeremo dei bellissimi video mapping sul campanile di Cortina dove appunto chi potrà essere a Cortina in quei giorni e anche nei giorni successivi potrà godere di questo spettacolo luminoso. I nostri soci, associati e negozianti saranno presenti e faranno vivere l'atmosfera del fashion rendendo le loro vetrine e le loro attività brillanti e sorprendenti con qualche particolarità appunto che riporterà a questa magica atmosfera che comunque non deve mancare, deve ricordarci un po' questo senso di speranza verso il futuro. Ci fermiamo qui, è tutto per l'informazione dedicata al Veneto che tornerà puntuale domani alle 20.30. Buona serata! Grazie!